Ma lei sposerebbe una ragazza di 14 anni? No, io no. Perché no? È troppo piccolo, non è matura. Perché è troppo piccolo? Non è una ragazza da fare una famiglia, è troppo giovane. No. Perché? Beh, perché secondo me non è proprio l'età, diciamo, adatta, perché ancora non si può avere una possibilità finanziaria o possibilità di poter creare una famiglia proprio tutto da se stesso, senza l'aiuto di qualcuno. Ma certamente, insomma, io credo che chiunque, qualsiasi essere ragionevole, è contrario, perché è azzardato. Beh, secondo me un matrimonio a quell'età è sbagliato. Lì non si sposerebbe una ragazza di qualità? No, no, no. Assolutamente.